All'occasione di questa sera viene offerta, è stata stabilita dal Centro Servizio per il Volontariato in seguito ad un processo lungo che è data da diversi anni attraverso il quale si è cercato di fare formazione all'organizzazione del volontariato proprio sul tema che questa sera verrà trattato. In particolare questa sera direi che siamo a un punto di formazione alta per la presenza dei relatori come per il professor Melandri ma soprattutto perché è stato voluto, pensato dalle stesse associazioni di volontariato che hanno partecipato ai corsi precedenti e che hanno individuato in questo tema non solo le tecniche, la richiesta di tecniche per poter raccogliere delle risorse ma hanno inteso e capito perfettamente come per arrivare a questo occorre una profonda riflessione da parte dell'organizzazione di volontariato che metta a fuoco la loro capacità di essere, di proporsi, di organizzarsi, di rendere chiaro a se stessi prima e agli altri la loro mission e quindi il perché hanno bisogno di risorse che non sono solo economiche ma sono di partecipazione di quasi partenariato perché è l'unico sistema per uscire da un concetto ormai superato di richiesta di fondi di tipo assistenziale quanto più è chiaro l'obiettivo e il progetto dell'associazione, tanto più è possibile che da parte non solo delle persone desiderose di aiutare ma da parte anche proprio degli organismi, gli organismi profit che possano capire il valore sociale del loro intervento attraverso appunto una collaborazione piena che è quella di trovare poi il modo di essere insieme proponenti e non solo l'associazione stessa.